Ho trovato il re dei Cuzzetielli Diventa il re dei Cuzzetielli Sono da caro gusto a Scafati Un posto specializzato in Cuzzetielli scavati E cucina casereccia come vuole la nonna Il locale a tema Napoli Abbinato a One Piece e alcuni anime Il proprietario ha messo le navi di One Piece All'interno del Golfo di Napoli Ho iniziato con delle polpette alla Genovese Proprio con la carne alla Genovese dell'impasto E poi via con i Cuzzetielli Li andiamo a riempire fino in fondo E li abbiamo fatti alla brace Con il pane di San Sebastiano Il primo era con la braciola a ragù Il secondo era con Genovese e carne di maiale Il terzo era il Gear 5 Dedicato a One Piece con scamorza, beciamella, melanzane fritte e genovese Ti portano anche il rai per fare la scarpetta Se casomai ti avanzassi il Cuzzetielli Poi ho assaggiato il panino storico di Scafati degli anni 90 Con parmigiana, polpette e provola E questo con salsiccia panata e fritta, maionese e provola Per concludere con una bella pasta mista Fagioli e cutiche Il meloncello fatto da loro Il caffè offerto da loro E il tocco finale I numeri estratti da lui fortunati Così da poterteli giocare Così da poterteli giocare Così da poterteli giocare Così da poterteli giocare Grazie a tutti.